e meno paura. Ecco, vedete, abbiamo un gran bisogno di cultura, di conoscenza. Io sono stato volontario in Senegal, insieme a Severino Froserpio abbiamo costruito una scuola, un laboratorio, eccetera, ma sono stato a Dakar e di fronte a Dakar c'è l'isola di Gorè, c'è la grande statua, ci sono 20 milioni di ragazzi portati schiavi nell'Occidente, noi le nostre radici, il nostro benessere viene da lì, viene dall'Africa, dalla deportazione di questa umanità, dalla cancellazione di identità di questi paesi che ancora oggi vengono depredati dalle multinazionali. Guardate su internet per favore, guardate che cos'è il Gambia, il Gambia che ha un governo pantoccio inventato da inglesi e francesi e che dall'Oceano Atlantico arriva fino a Centrafrica lungo il fiume Gambia, ma è proprio una striscia ed è fatto unicamente e scentamente per poter depredare tutte le risorse dal Centrafrica fino all'Oceano Atlantico senza dover rendere conto a nessuno. Abbiamo bisogno di conoscere, abbiamo bisogno di capire che cosa avviene e che cosa sta succedendo. I fenomeni dell'emigrazione è un fenomeno inarrestabile, è un fenomeno che è destinato a essere l'elemento fondante dei prossimi decenni e quindi abbiamo bisogno non soltanto giustamente di essere duramente critici verso una politica criminale, ma abbiamo bisogno di fornirci noi stessi degli elementi di conoscenza culturale per capire che cosa è l'Africa e che cosa è stato il colonialismo e che cos'è oggi, non c'è più il colonialismo, c'è il protettorato, il protettorato, una parola quasi paterna. Ho avuto la fortuna di conoscere padre Zanotelli proprio lì a Dakar in più di una occasione. Sono quelle grandi persone, sono quelle straordinarie persone ricche di umanità, ricche di civiltà, ricche di futuro. Ecco, questa è la mia raccomandazione che mi permetto umilmente di rivolgere. Bisogna ricercare, abbiamo tutti gli strumenti perché altrimenti siamo tutti inconsapevolmente corresponsabili. Il nostro benessere o bene avere, quello che sia, ha origini profonde, viene da giù, viene dall'Africa, da questo paese martoriato e quindi grazie a Carola e grazie a tutti quanti si spendono senza limiti per un rapporto e un progresso di civiltà del mondo, per la difesa della civiltà e dell'umanità in questo paese. Grazie, scusate.